ciao shelly che combini non riuscivo a visualizzare lo schema proporzioni sballate servivano atomi più grandi mi sembra giusto in tutti i modi come sei riuscito a entrare la porta sul retro ha una serratura 5 pistoncini e un antifurtante guerra è stato molto semplice entra anche tu inizia a dividere i protoni dei neutroni mentre io preparo gli atomi di carboni non credo che sia il momento adatto dobbiamo tornare a letto ma non vedi che sono al lavoro se non esci subito da solo vengo a trascinarti per le orecchie se è una sfida allora prova a prendermi guarda se uno sceldo vieni fuori basinga 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 basinga